Salve a tutti bentornati al canale e allora per quanto riguarda le quotazioni del tex avevo fatto una piccola ricerca c'è da dire che le quotazioni dei fumetti sono sempre molto variabili perché prima di tutto si guarda le condizioni del fumetto cioè nello stato di conservazione e quello fa variare molto il prezzo quindi i prezzi sono sempre molto indicativi e hanno sempre un margine di variazione in base a chi li vende la persona che li vende in base alle condizioni del fumetto in base a quanti ce ne sono le richieste insomma ci sono un sacco di fattori che logicamente fanno cambiare la quotazione di ogni albo quindi lo stesso albo in determinati posti diversi a un prezzo in un altro in un altro posto a a un altro prezzo anche proprio a livello di località di di posto dove viene trovato l'album considerazione allora direi di partire proprio da quello più recente cioè il classic tex del 2017 che logicamente è un oggetto molto recente non so se esaurito mi sembra si è esaurito alla bonelli quindi anche lì il fatto che non si trova più ordinabile fa avaliare subito il prezzo perché se costava mettiamo un album di land dog 4 euro e 90 a una volta esaurito il prezzo è già di chi lo possiede lo fa subito il possessore dell'album quindi allora classic tex dovrebbe essere esaurito alla bonelli quindi ho visto siamo sui 4 5 euro e l'album in questione è questo che poi riutilizzerò questa copertina per il discorso dell'albo d'oro allora classic tex a colori poi si va al alla tex nuova ristampa eccolo qui tex nuova ristampa ho visto su vari siti siamo 5 7 euro perché qui dall'interno c'è una cartolina quindi anche il prezzo varia se l'albo contiene la cartolina infatti nel numero 2 si vede la pubblicità il numero 2 e la cartolina interna quindi se alla cartolina logicamente ha più valore se non c'è la cartolina viene depreciato di 2 3 euro quindi dei 5 7 euro poi c'è rametto anche questo perché è sempre fa parte sempre della serie del tex quindi la collana collezione storica a colori purtroppo questa è una bellissima serie carta patinata a colori molto bella costava un sacco di soldi perché mi sembra veniva ora qui non c'è il prezzo perché il primo numero mi sembra se eravamo sui 7 euro 6 e 90 quindi è è un peccato trovarli nei mercatini a 1 2 euro e infatti qui mette sui 2 euro ecco una media di 2 euro è veramente un peccato perché è una bella serie poi andiamo passiamo al tutto tex tutto tex super esaurito era del 85 ho visto anche questo logicamente va in base alle condizioni dello stato di conservazione siamo dai 20 a 25 euro insomma abbastanza caro per essere una ristampa abbastanza recente andiamo al tex gigante cioè quello da 200 lire l'edicola piccola si ha questa caratteristica di avere questa edicola lassù piccola quindi è considerato il tex edicola piccola quindi il tex edicola piccola del 64 siamo intorno ai 100 euro logicamente sempre in condizioni perfette poi andiamo al tre stelle il tre stelle è l'identico uguale solo che ha sul bordo qua su in alto le tre stelle e qui il prezzo si alza ancora di più siamo sui 250 euro perché non mi ricordo se c'erano gli spillati poi allora qui andiamo sul sul valore cominciano arrivare i valori alti il tex gigante cioè questo qui sempre in questa versione con questa copertina l'originale cioè il primo che fu fatto nelle raccolte qui siamo intorno il non censurato spillato qui me lo indicava con una sigla 478 4.500 euro poi si va ancora avanti per quanto riguarda la 1.29 il tex gigante cioè quello che comprendeva la copertina che vi ho fatto vedere prima del classic tex siamo allora ho trovato il numero 11 a 4.990 il numero 20 che era bellissimo 5.500 euro il numero 21 4.900 euro insomma dei bei soldoni poi andiamo avanti cioè torniamo indietro negli anni nel 52 la serie del degli albi d'oro cioè quelli spillati con poche pagine ho visto della prima serie il numero 3 della casa editrice audace 370 euro il 3 a 370 euro quindi non sono riuscito a trovare il primo numero poi per quanto riguarda le raccoltine le raccoltine ho visto c'era una serie che veniva uno sproposito ho fatto una media e siamo intorno ai 2.000-2.500 euro quindi questo qui ora trovarlo in queste condizioni qui penso che il valore raddoppia quindi 2.000-2.500 euro però in quelle condizioni lì si va sul raddoppio e la collana del tex cioè il primo numero la la primassima uscita che erano 36 serie questa è la proprio la prima collana del tex e poi variano le serie il dal numero 1 al 60 sì che questo piccolo formato di 36 pagine ho trovato un annuncio che dall'1 al 60 9.000 euro tanta roba bene allora queste sono le ipotetiche chiamiamo chiamiamole così quotazioni ci possiamo solo fare un'idea perché questi non sono non esiste un prezzario fisso quindi i prezzi sono sempre variabili qui ci avviciniamo con la quotazione e allora vi aspetto in un prossimo video iscrivetevi al canale un saluto a tutti